Amici della Serie A team, buon pomeriggio ben ritrovati da Luca Corradi. Due velieri in tempesta, due equipaggi che hanno dovuto cambiare timoniere. Nel gelo dell'inverno punti roventi in palio alla Dacia Arena dove Udinese e i Frosinone si affrontano per la diciassettesima giornata. Ora sulla destra con Larsen, il traversone. Lasagna anticipato poi, Zampano a vuoto, arriva Mandragora! Sinistro! Che fulmina Sportiello! Il vantaggio dell'Udinesi al trentaduesimo! Primo gol in campionato per Mandragora, il terzo in Serie A per il capitano della nazionale Under 21 italiana Scuola Genoa ed ex...